gli occhi per guardare perché l'amore vero si fonda sulla bellezza le mani aperte perché l'amore è accoglienza il cuore perché l'amore sia vero e totale il sangue perché l'amore vero dona tutto ciò che sei gli orecchi per ascoltare la voce d'amore di dio per me la testa perché i gesti di amore sono ragionati e pensati tutta la persona perché non possiamo amare solo con un pezzo di noi sei pronto per la festa diocesana dei ragazzi di questo 2015? vi aspettiamo domenica 19 aprile dalle 9.30 del mattino presso l'aggetour di Lignano Pineta Santa Messa con l'arcivescovo Andrea Bruno pranzo al sacco festa e giochi in spiaggia premiazioni della magica avventura e per i genitori uno spazio riservato di riflessione in collaborazione con l'ufficio famiglia testa cuore occhi sangue mani orecchi cosa manca? scatta un selfie con il tuo gruppo di catechismo con l'immagine della parte del corpo mancante e spediscila all'ufficio entro il 12 aprile vincerete un premio siete pronti per la festa dei ragazzi 2015? siamo fatti per amare nonostante noi siamo due braccia con un cuore solo questo avrai da me a i a a un un Grazie a tutti